Assessore, la Regione continua l'impegno per l'aiuto ai cristiani perseguitati. Questa mostra si può visitare anche Palazzo Lombardia a partire da oggi fino al 21 aprile? Sì, fino al 21 aprile abbiamo anche predisposto delle aperture per le tre domeniche, quindi dalla prossima domenica fino a Pasqua, proprio per permettere a più persone di venirla a visitare anche nei giorni festivi e speriamo così di poter sensibilizzare ancora di più rispetto a tutte le iniziative che già abbiamo portato avanti in questi anni, un'opinione pubblica ma anche le istituzioni, la politica, i media, purtroppo sono pochi i media ad occuparsi seriamente della questione, speriamo che tutte queste iniziative possano accendere e tenere accesi sempre di più i riflettori su un dramma che colpisce tutti i giorni intere popolazioni che poi sono le nostre comunità cristiane in tutto il mondo. Abbiamo sentito anche delle testimonianze molto toccanti oggi tra l'altro, non parte anche dei due sacerdoti presenti. Sì, mi ha fatto molto piacere la presenza qui di due testimonianze dall'Iraq e dalla Siria e ascoltare chi ha vissuto, vive costantemente a contatto con determinate realtà, con situazioni così tragiche, penso sia un modo per avvicinare di più le persone proprio perché guardando la mostra, ascoltando le testimonianze di queste persone possono rendersi conto di un dramma che è ancora troppo sottovalutato. Quindi per finire, perché invitare a venire a visitare questa mostra secondo lei? Qual è proprio il sinfilato principale? Per acquisire consapevolezza su quello che accade nel mondo, per capire come ancora oggi si muore per un credo religioso, per non rinunciare alla propria fede, per mantenere saldi dei principi e delle radici, un'identità e che possiamo tutti fare qualcosa perché se ne parli di più, perché ci sia appunto una presa di coscienza generale in modo tale da rendersi conto qual è la posta in gioco.